Ben ritrovati amiche e amici, appuntamento con l'editoriale. Quest'oggi, venerdì, ci incontriamo e affrontiamo alcune problematiche che riguardano la nostra comunità. Prima di tutto voglio annunciarvi che nei prossimi giorni parleremo di Via Francone. Diverse sono le segnalazioni che giungono da quella strada e quindi è doveroso fare un approfondimento e quindi soffermarci e dedicare più tempo a quella realtà, alle problematiche che vivono i residenti in Via Francone. L'eco di Acquaviva è uscito qualche giorno fa, il 31 maggio, in prima pagina pubblicando questi nostri simpatici animali, gli asini, che tanto in passato hanno portato benessere a tutti quegli agricoltori che li hanno utilizzati, specialmente in quei paesi dove bisognava scalare le colline, dove i terreni non erano in pianura. Hanno dato un forte contributo. L'uomo, noi tutti siamo affezionati a questo animale, l'asino. Molte volte si dice sei come un asino quando si vuol dire a qualcuno che non ha una intelligenza spiccata, non è molto sveglio. Invece dobbiamo dire che sono degli animali molto servizievoli e molto svegli, al contrario di quello che si vuol dire e si vuol far passare. Poi lo sciopero nazionale degli operatori ambientali, dell'igiene che ha interessato naturalmente anche il comune di Acquaviva delle Fonti. Uno sciopero nazionale, le diverse sigle sindacali hanno aderito e quindi anche gli operatori della nostra città. Si è ritenuto da parte del Codacons mettere in risalto come l'amministrazione comunale di Acquaviva, diversamente da come si sono comportate quelle di Cassano, di Gravina, di Bari, dei tanti altri comuni, non è stata capace di comunicare alla propria città quello che sarebbe avvenuto, ma soprattutto quali sarebbero state le precauzioni da prendere per portare meno disagio possibile alla collettività. La RAI fa la furba, vorrebbe far spendere altri soldi agli utenti. Per la nostra tabella Italia il nostro ruolo giornalistico diventa molto più semplice che in altre realtà, dove magari bisogna fare particolari servizi giornalistici di inchiesta, dove bisogna sudare sette camicie per poter relazionare, per poter portare all'attenzione dell'opinione pubblica le problematiche in maniera dettagliata e far diventare la cosa pubblica e qualsiasi realtà di interesse pubblico trasparente. Invece nella nostra bella Italia diventa tutto più semplice perché fanno tutto loro. Sono bravi a combinare gli imprevisti, sono bravi a fare gli errori, sono bravi a non fare e quindi diventa più semplice il lavoro di chi deve raccontare questi disagi, queste disavventure, questi disservizi ai danni della comunità. Quando parliamo della RAI, servizio pubblico, che forse lo si vorrebbe privatizzare come si è fatto per le poste, vedremo cosa si inventerà la politica pur di rendere privata anche questo importante servizio pubblico che dovrebbe essere tutelato e mai essere reso privato, non tanto perché farlo diventare privato significa per partito preso renderlo più brutto, ma perché in Italia quando si fanno le cose private le si rendono più brutte e questa è la realtà, al contrario di altri paesi. Allora l'attività privata è molto soggettiva e quindi se si ha un imprenditore, un'organizzazione, una società all'altezza della situazione che ha la coscienza pubblica, qualsiasi servizio pubblico che diventa privato è efficiente rispetto alle regole e funziona meglio di quando lo era pubblico. In Italia invece non sempre è così, anzi nella maggior parte dei casi è proprio il contrario. Per quanto riguarda la RAI, per dirla in breve e ritorneremo su questo argomento, quando c'è stato il passaggio dall'analogico al digitale, il cosiddetto switch off nel 2012, quindi quattro anni fa, si sono date delle indicazioni agli utenti, a coloro i quali pagano il canone, prima non obbligatorio, poi diventato tassa di possesso dell'apparecchio televisivo, prima invece una tassa legata alla ricezione del segnale, si sono inventati anche questo per rendere più difficile il non pagamento del canone. La RAI ha dato delle indicazioni, questo servizio pubblico prima dello switch off ha dato delle indicazioni, ha fatto tanti mesi di sperimentazione nel digitale terrestre, attingendo a risorse pubbliche naturalmente, quindi sempre a nostri soldi, per poter fare questa sperimentazione, perché poi ci sarebbe stato questo switch off, il passaggio dal sistema analogico al digitale, questo ha comportato per la maggior parte dei casi, se non in tutti, l'adeguamento degli impianti riceventi, del proprio impianto, quindi delle proprie antenne di ricezione, quindi è cambiata l'antenna, è cambiata la posizione dell'antenna, sono cambiati gli amplificatori, sono cambiati i filtri, sono cambiate tutte quelle apparecchiature, tutti quei prodotti utilizzati, utili a portare il segnale dall'etere, dallo spazio, dal terrazzo al nostro ricevitore, al nostro televisore, secondo delle indicazioni che venivano dal servizio pubblico che aveva fatto una sperimentazione a spese dei cittadini. Che cosa succede? Che oggi scopriamo, per una risposta del direttore tecnico del comparto RAI al sindaco di Acquaviva delle Fonti, sollecitato dai cittadini e dalla stessa associazione Codacons a intraprendere le più opportune azioni per tutelare la collettività che rappresenta, ha risposto il direttore che bisognerebbe cambiare il sistema d'antenna. Vogliamo ridere? Vogliamo farci un aperitivo più tardi? Che cosa, come dovremmo noi rappresentare a voi tutti questa risposta, che diventa ancora più simpatica nel momento in cui si dice se proprio non si riesce a ricevere il segnale via etere con l'impianto d'antenna tradizionale, lo potete fare sulla piattaforma satellitare. E inoltre si aggiunge che la RAI, per convenzione con il Ministero, ha l'obbligo di portare il proprio segnale ad N utenti, quindi a una determinata area. Allora, per non scendere troppo nei dettagli tecnici e quindi nella tecnologia che riguarda il passaggio dall'analogico al digitale, sicuramente possiamo dire che gli utenti del servizio sono stati truffati. Come sono state truffate le emittenti televisive della regione Puglia, allora quando sono passati dall'analogico al digitale e hanno ricevuto una concessione di tanti anni e sono costretti a giorni a ripresentarsi per un nuovo bando. Insomma, un'Italia che fa tante regole, tante norme, mette tanti paletti e che quindi obbliga gli utenti, i cittadini a rispettare e poi stravolge o in corso d'opera o subito dopo. È naturale che bisognerebbe verificare se le spese che gli utenti dovranno affrontare devono essere a carico loro o invece della RAI, perché il di servizio è dovuto alla RAI che ha usato risorse pubbliche per fare una sperimentazione, che ha usato risorse pubbliche per fare lo switch off, che è un'emittente mamma RAI pubblica e che ha preso in giro i cittadini, in questo caso di Accoglia delle Fonti, nel momento in cui gli ha dato l'indicazione di montare il proprio impianto in direzione Monte Caccia, zona Spinazzola, a circa 50 km, non parliamo di 200-300 km, per cui si possono addurre motivazioni tecnologiche o meglio motivazioni della lunga tratta a spiegazione della defiance che si ha con il segnale RAI proveniente da Monte Caccia, defiance che già c'erano quando si trasmetteva in analogico dalla stessa direzione e quindi nulla è stato fatto da allora ad oggi per rimediare a queste defiance tecnologiche della RAI. Quindi il titolo è molto chiaro e non poteva essere più appropriato, la RAI fa la furba, vorrebbe far spendere altri soldi agli utenti, visto che ci troviamo in un periodo in cui i soldi affiorano come le cipolle in questa città dal terreno, le si trovano a Iosa, gli Euro si trovano a Iosa, visto che non ci troviamo in un periodo di crisi, visto che le famiglie non devono fare i salti mortali per arrivare a fine mese o per pagare il canone, gli diciamo anche spendiamo un altro po' di soldini perché noi nel 2012 vi abbiamo dato delle indicazioni che non erano giuste e che oggi sono cambiate. Furti delle idee, oltre che delle cipolle, per rimanere in tema, perché questo nostro prodotto è tanto caro agli acquavivesi, è tanto caro quindi agli amministratori che si è stata dedicata questa riflessione alle cipolle. Furti delle idee, oltre che delle cipolle, fanno diventare la nostra città a rischio criminalità del pensiero distorto. Nei prossimi incontri parleremo anche delle vostre segnalazioni di via Francone, ve l'ho già detto, nel frattempo parliamo di quelle che riguardano i rifiuti, che si ritrovano puntualmente nei pressi del campo sportivo Giammaria di Acquaviva delle Fonti. Alcuni cittadini dicono che forse avevano qualche riferimento nell'immondizia perché hanno posto questo quesito. I rifiuti del centro storico sono arrivati al campo sportivo, sappiamo che è stata fatta un'inaugurazione, che si è stato banchettato in piazza dei Martiri 1799 e allora dicono che non è che quei rifiuti sono arrivati qui in via Cassano e comunque indipendentemente da tutto questo è uno schifo, come ogni giorno, quindi non solo quando si fanno i banchetti in piazza dei Martiri 1799. I viaggiatori nel pullman delle ore 13 e 30 dicono che non vorremmo essere trattati come le sardine, è stato scritto come gli animali, noi utilizziamo le sardine, invitiamo i responsabili a trovare una soluzione con un mezzo più grande, visto che sono maggiori gli utenti dei posti a sedere. È una porcheria quel giardinetto della stazione ferroviaria con tutti quei rifiuti, a chi compete pulire e mettere un cestino per la raccolta degli stessi? Grazie. Allora sappiamo benissimo che tutti noi i rifiuti non vanno buttati per terra, per strada, c'è chi butta la carta dal finestrino, chi fuma e butta la cicla e la sigaretta dal finestrino, chi si soffia il proprio nasino e butta tutto per terra, ma se da una parte ci sono questi soggetti che sono poco sensibili, non hanno un minimo di senso civico e non comprendono che più sporcano e meno soldi ci saranno a disposizione per i loro figli, perché costerà sempre di più pulire quelle strade che loro sporcano, di contro ci deve essere un'amministrazione seria, sensibile e attenta e accorta che mette a disposizione dei cestini, porta rifiuti, perché io non posso soffiarmi il naso per esempio alla stazione ferroviaria quando sto uscendo dalla stazione e portarmelo questo fazzoletto bagnaticcio, schifosissimo fino a Via Gioia per esempio, o fino a Piazza Vittorio Emanuele, o fino a San Michele dove forse troverò, anzi sicuramente troverò a San Michele un portacarte, un cestino e allora se io esco dalla stazione ferroviaria lì ci deve essere un cestino porta rifiuti, ci deve essere in Piazza dei Martiri, ci deve essere all'uscita del Comune di Acquelli delle Fonti, nel senso degli uffici comunali, in tutti gli uffici pubblici, all'uscita di tutti gli uffici pubblici ci dovrebbe essere un cestino, un portacarte dove io soffiandomi il naso debba poter buttare il fazzolettino, allora l'amministrazione farebbe la sua parte e avrebbe sicuramente diritto anche a dire al vigile urbano fai il tuo dovere e nel momento in cui stai da quelle parti di servizio fai anche la contravenzione all'indisciplinato che ha buttato il fazzolettino, la carta, qualsiasi cosa per terra, perché lì abbiamo spesso delle risorse pubbliche per installare un cestino, lì siamo sicuri che c'è un cittadino che non ha senso civico e che se ne frega delle regole e se ne frega di tutta la comunità. Anche tramite Facebook e Mail giungono i vostri messaggi e quindi, indipendentemente dalla bellezza di questa proiezione che è stata celebrata in Piazza dei Martiri, in particolare la Torre dell'Orologio, le osservazioni giungono perché queste persone sono uscite dalla cattedrale dopo aver partecipato alla Santa Messa delle ore 20 e si sono ritrovate al buio. Devono scendere il gradino del Sagrato? È buio! Devono andare in Piazza Vittorio Emanuele? È buio! Devono andare a casa verso la Torre dell'Orologio? È buio! Ma chi è questo buon tempone che ha un'intelligenza eccellente, non certo da asino, da poter programmare lo spegnimento di una piazza pubblica durante l'uscita dalla Messa dei fedeli? Chi è? Si chiedono questi cittadini che hanno subito questo disagio, indipendentemente dalla bellezza della proiezione, chi è questa mente eccelsa, dalla spiccata intelligenza, dal quotiente altissimo e ha dimostrato un'ottima organizzazione pubblica per fare questo? Buongiorno! In appendice alle foto che le ho inviato l'altro giorno, ecco altre a cui dare un titolo, Pollice Verde ad Acqua Viva, e sì perché l'erbaccia è dappertutto e quindi ci mostra alcune fotografie di quest'area che non nutre, che non è soggetta all'attenzione di quegli operatori e di quell'amministrazione comunale che ha l'obbligo di tenere le strade pulite e poi l'osservazione che riguarda la RAI. Concludiamo quindi con queste segnalazioni che vi ricordo, sebbene l'eco di Acqua Viva non lo ritroverete in edicola sabato prossimo, ma ci rivedremo dopo l'estate, vi ricordo che le vostre segnalazioni possono continuare a giungere al numero 348 811 0181 o attraverso le mail, gli indirizzi mail che conoscete o imbucando la vostra lettera anche in forma anonima, il bigliettino anche in forma anonima nella cassetta postale di via Maria Scalera 66 e ci rivedremo in televisione, pubblicheremo le vostre osservazioni e faremo vedere a voi tutti, care amiche e cari amici che avete la pazienza, la bontà di seguire la nostra emittente televisiva Telemaig, queste immagini e qualsiasi altra cosa riterrete utile. Vi ringrazio della vostra attenzione e sempre sintonizzati con il programma 97 di Telemaig per guardare quella programmazione, quei servizi giornalistici che ritrovate anche sul nostro sito www.telemaig.com o su Redazione Telemaig Facebook. Grazie a voi tutti! Grazie a tutti!